Per il tema Less is Better presentiamo questo articolo di Nappa Nera sostenibile e compatto. Il tema principale del prodotto utilizzato è il PM03 il quale permette di ottenere una pelle molto morbida, scattante e senza invecchiare. La principale caratteristica del PM03 è di abbassare i livelli di COD e di solfatti aglio scarico abbassando i consumi di acqua. L'altro articolo che presentiamo è questa Nappa costituita esclusivamente con prodotti sostenibili e tinta con uno dei coloranti della gamma Metal Aniline Free. Altro articolo che presentiamo è questa nappa rossa morbida prodotta con il sistema compatto, utilizzando l'ingrasso di impiego universale e il leader oil mic con il quale diminuiscono sensibilmente i valori di COD. Per il tema Less is Better presentiamo delle nappe morbidissime, rifinite in modo naturale, grazie al nostro prodotto specifico Silene Compound Nappa Light, adatto a rifinizioni di articoli sia lisci che bottalati. Nel tema Digital Retro, dove è in evidenza il valore del fatto a mano, proponiamo alcuni stampati negativo e rigonfiati grazie al nostro Compound 13RV, mettendo in evidenza l'effetto anticato. Altro articolo è un vegetalizzato con un look vintage lucido dovuto all'applicazione del Silene ONB915 che dona un aspetto naturale e senso di pienezza. L'ultimo tema Dark Luxury, dove il lusso lo fa da padrone, proponiamo delle pelli lucide come questo effetto box o pelli dai colori accesi e brillanti come Nabuc, sviluppati con processi di concia e riconcia metal free e coloranti della nuova gamma metal annealing free. Proponiamo anche questa calciatura pieno fiore e smerigliato Nabuc waterproof, la quale con l'impiego del nuovo ingrasso Repliker IMT, combinato con i vari prodotti polimeri, ausiliari e ingrassi per idrorepellente, possiamo ottenere delle performance per quanto riguarda tenute balli o maser test. Sempre a questo tema non potevano mancare degli stampati lucidissimi, con stampe digitali, dove il prodotto principale è Silene Compound 13 RV.